Ciao Rico, sono Eva. Ottimo lavoro. Gli altri mi hanno detto che hai liberato tutti i prigionieri di lacrima. Ho ricevuto. Ho fatto un po' di pulizia. Ora vado all'assalto dell'alveare, per impedire alla mano nera di combinare altri guai. Siete ancora con me? Più che mai. Siamo combattenti e avrai bisogno di noi per entrare. Niente di quella tecnologia deve uscire dall'isola. Bene. Raduna tutti i prigionieri. Ci vediamo quando saremo pronti per l'attacco. A proposito, come diavolo avete fatto ad avere i trasmettitori? Li abbiamo presi dai cadaveri di quegli idioti della mano nera che ti sei lasciato dietro. Ci vediamo al punto d'incontro. A proposito, 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 ci vediamo al punto d'incontro. Grazie a tutti. Non male, non male davvero. Bene ragazzo, ho fatto quello che mi hai chiesto. Abbiamo intercettato alcune comunicazioni della Mano Nera. Si stanno preparando per lanciare una massiccia operazione. Nome in codice, progetto di cambiamento globale. Dai tempi di esperito, la Mano Nera è stata con il dittatore. Questo progetto di cambiamento globale non è niente di buono. Un'altra cosa figliolo, come hai visto le Isole Lacrima erano di proprietà della Ede Corporation. Faceva parte dell'accordo con Tiravello. Ci sono sistemi bellici avanzati incredibilmente potenti conservati in un posto chiamato l'Alveare e la Mano Nera ne è entrata in possesso. Dobbiamo impedirgli di usarli. Qualunque cosa ci sia in quell'edificio, non ci metteranno le mani sopra. Bene, ci serve un piano. Primo, ci dividiamo e lanciamo un attacco coordinato. Dobbiamo dividerli, diminuire il loro impatto. Secondo, abbattiamo la difesa dell'Alveare. Terzo, distruggiamo tutto. Rico, ecco il piano. Noi attaccheremo in diversi punti contemporaneamente. Partecipa a tutte le battaglie che trovi e aiutaci a sfoltire i ranghi. Quando li avremo indeboliti abbastanza, li colpiremo duramente. Li chiamerò quando stiamo per sferrare l'attacco. Buona fortuna. Grazie a tutti. 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 Ricco, noi siamo al porto. Grazie a tutti. Tempismo perfetto, Rico. Ora andiamocene. Ok, continuate a sparare. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. D'accorda. Facciamoli fuori. Mitragliere! Là! Attenzione, elicotteri! Sous-titrage ST' 501 Dico, hanno delle difese antiaeree, distruggile! Dico, hanno delle difese antiaeree, distruggile! Dico, hanno delle difese antiaeree, non possiamo fare niente finché non le distruggi! Dico, hanno delle difese antiaeree, distruggile! 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 Dico, hanno delle difese antiaeree! Bene, sono distrutte. State tutti pronti? Sì. Dobbiamo dire in accella mia sicurezza. Forse hanno varicato il cancello quando sono entrati. Sì. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sì! La porta è aperta! Andiamo! Li abbiamo presi tutti! Tu credi che dovremmo suonare il campanello? Ah! Ecco che tornano! Oh! Un'imboscata! Non me lo aspettavo proprio! Oh! 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 Ah, c'è mancato poco. Chi ha bisogno del fabbro? Chi ha bisogno del fabbro. Un posto da brividi? Ci deve essere un modo per scendere da qui. Quella porta. Ci siamo! Ottimo, farò come a casa mia. Dovrei riuscire a farcela. Facevo la programmatrice di videogiochi. Benvenuti a L'Alveare, ultima giunta all'avanzatissima rete di ricerca della Eden Corporation e gioiello delle nostre strutture sull'isola di lacrima. Si prega di attendere alla reception. Un addetto all'assistenza clienti della Eden Corporation sarà da voi fra poco. Ci siamo quasi. Violazione di sicurezza rilevata. Allarme rosso, allarme rosso. È una trappola! Coprimi! Duocco, cadetemi! Mi hanno ferito! Ecco, puoi entrare Non riesco ad aprirlo del tutto Svelto, entra, prima che si chiuda di nuovo Entro da solo, voi state qui Ascensore online, attenzione, cancello in chiusura Alla prossima Alla Evel Corporation siamo orgogliosi delle nostre tecnologie all'avanguardia Le nostre ricerche spaziano dall'aeronautica all'intelligenza artificiale Dalla robotica alla nanotecnologia ai sistemi energetici autosufficienti I nostri MEC hanno aumentato dell'83% l'efficienza nelle costruzioni e nelle demolizioni Presto avvieremo un progetto segreto che rivoluzionerà il metodo di estrazione dei minerali Già, il progetto è stato cancellato, temo Cogliamo l'occasione per ringraziare il nostro nuovo sponsor e vicino di casa Il generale Sebastiano Di Ravello E congratularci per la sua promozione Come sono cambiate le cose negli ultimi vent'anni Ci sono un sacco di MEC qui Ma questi non sono armati Se la mano nera armasse tutti questi MEC I criminali del mondo potrebbero fare festa per un bel po' E' un sacco di MEC Ecco uno di quegli affari gravitazionali E' un sacco di MEC 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 Operatore riconosciuto Avvio un'occasione direzione centrale Tragniamo l'occasione Ben tornato, Ricco Rodriguez E' un sacco di MEC Sono arrivato in tempo Sono arrivato in tempo Non ho ancora di pulire Attenzione, l'impatto di MEC Attenzione, l'impatto di MEC Mi spiace, questo carico è sotto sequestro Fino al nuovo Attenzione, ambiente nocivo Attenzione, l'impatto di MEC Si faccio, mi spiace, l'impatto di MEC Mi ricorda Mi ricorda Un deserto da MEC Attenzione, ambiente nocivo Attenzione, ambiente nocivo Non fatemi pensare a cosa avreste potuto fare con quelle armi. Valedizione. Vogliono fuggire. Rilevato. Devono andarsene con i mech o la tecnologia della Eden. Prevenire è meglio che curare. Attenzione. L'impatto di detriti pesanti potrebbe causare dati eccessivi al vostro mech. Si ricorda gli operatori di evitare i proiettili pericolosi. Allarme. Il mech necessità di riparazioni urgenti. Operatore Rico Rodriguez. Riconosciuto. Attivazione sistemi mech. Rilevato. Impatto di detriti. Attenzione. L'impatto di detriti pesanti potrebbe causare dati eccessivi al vostro mech. Rilevato. 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 Ok. Credo sia ora di andare. Rico! Tu, Rico! Lacrima appartiene al popolo adesso. Ehi, quando arrivi a Netici, ricordati di lasciare un Mac al mio vecchio amico Mario Frigo. Lui saprà cosa farlo. Lacrima a comando. Scorte Mac compromesse. Non importa più ormai. Avete preso i progetti? Affermativo. Siamo quasi pienamente operativi. Bene. Ora siamo quasi del tutto operativi. Il nostro corso appartiene. Grazie a tutti. Siamo quasi del tutto per te. Siamo quasi del tutto per te. Siamo quasi del tutto per te. Siamo quasi del tutto. Grazie a tutti.